buongiorno a tutti brevissima volevo solo trasferirvi la mia contentezza la mia felicità nell'essere qui oggi nell'aver raggiunto questo bellissimo risultato per la mia città che ospita nel suo cuore nei giardini della nostra città una struttura così bella che vuole essere una struttura emozionale perché ci regalerà delle emozioni speciali no grazie ovviamente per questa bellissima iniziativa per questa bellissima realizzazione è una manifestazione che evidenzia le eccellenze del nostro territorio il fatto che si sia installata qui nel cuore della città una struttura che dà lustro alle nostre aziende alla nostra capacità di saper fare è il segno di una città e di un territorio particolarmente vivo vivace è un momento in cui la città e il territorio manifesta quello che le nostre aziende sanno sanno fare perché passare un fine settimana a Varese in questo giardino all'interno di questa installazione penso che sia assolutamente irripetibile da provare quindi grazie 20 giorni fa avevamo nel cassetto un progetto che è questa piramide l'abbiamo tirata fuori dal cassetto l'abbiamo sviluppata in 20 giorni appunto abbiamo realizzato questa questa struttura due giorni di montaggio siamo riusciti comunque con una bella organizzazione a fare un'opera che poi penso che sia risultata bene bella ecco questo ragazzo questo ragazzo è un mio collaboratore stretto si è dedicato alla al progetto di questa struttura per dire che ci ragazzi giovani bisogna valutarli per quello che sono perché sono in grado veramente se hanno l'entusiasmo e la voglia di fare di appunto di di costruire qualcosa di bello e ci siamo riusciti veramente grazie